Ecco, vi faccio vedere i miei tacchini. Sono i tacchini, poi lì ci sono le galline, ecco, lì in fondo ci sono le anatre, piccole piccole carine e qua di nuovo anche le galline. Come va? Tutto bene? Allora, io sto imparando tutte queste cose, dove sei? Poi sto leggendo i messaggi, dove sei? Ciao principe, ciao, ciao Palermo, ciao Palermo, grandissimo anche te, ciao, beh viva il re questo non oso dirlo, ma se lo dici tu, da Milano, grande, beh grazie, grazie, grazie per tutti i messaggi, qua siamo in Umbria, in Umbria, e poi sto andando a fare un giro con la mia nuova Savoy Mobile. Guarda, allora, ma vi piace il colore di questa macchina? È un po' la Fiat Panda messicana, la Fiat Panda messicana con ruote, con colori diversi, ecco, si è una Panda sotto lsd, non so chi sta dicendo questo, ma una Panda sotto lsd, no, Missoni non è Missoni, questa è più, diciamo, messicana che Missoni. Beh, ecco, adesso torno a casa, perché tra poco, è l'ora di pranzo, torno a casa, senza fare un incidente, spero, ecco, beh, io spero che voi state bene, qua, come potete vedere, c'è un tempo splendido, gli olivi sono belli, il cielo blu, guarda la Panda, allora, beh, va bene, no come l'ho dipinta.